Ritardi accumulati da anni che continuano a creare enormi difficoltà nella gestione dei rifiuti. Il presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, rilancia il tema e commenta necessario recuperare il tempo perduto, ma non è semplice. Il problema è sempre perché stiamo viaggiando in assenza di piani strategici, stiamo viaggiando in assenza di una vera programmazione, la mancanza di individuazioni di aree idonee e non idonee. Purtroppo è un lavoro che doveva essere fatto già da diversi anni, stiamo cercando di recuperare questi ritardi, non è semplice. E poi riguardo alla recente manifestazione che ha portato in piazza i sindacati e i lavoratori anche del settore dei rifiuti per protestare contro l'articolo 177 del codice degli appalti che dal prossimo anno obbligherà le imprese ad esternalizzare l'80% delle attività, si dice perplesso. La privatizzazione in questo senso, così senza un piano strategico, mi lascia un po' perplesso, però faremo tutto quello che è nella nostra competenza per dare al sagno una regolamentazione al fine di non far prevalere soltanto l'interesse economico o soltanto l'interesse multinazionale, l'interesse deve essere di tutti, del territorio. Grazie. Grazie. Grazie.